Studenti e arretini al gelo e scoppia così la polemica. I disagi si sono registrati infatti in tutta la provincia. In Valdarno a Monte Varchi i ragazzi del liceo Benedetto Varchi addirittura sono scesi in strada per manifestare contro le basse temperature registrate all'interno dell'istituto dove i termosifoni funzionerebbero a singhiozzo, come raccontano questi giovani, ai microfoni di Valdarno 24. La scuola non riesce a garantire un sistema di riscaldamento funzionale ed efficiente in tutte le classi. Alcune classi magari i termosifoni sono caldi mentre in altre sono freddi o tiepidi funzionanti magari nelle prime ore della mattinata per poi tornare a smettere di funzionare. Il riscaldamento ha sempre avuto un po' di problemi durante tutto l'inverno ma adesso si sono abbassate le temperature e la situazione nelle classi è diventata insostenibile. Chiediamo che questo problema sia risolto il più presto e chiediamo le assicurazioni e vogliamo essere anche noi a conoscenza della vera risoluzione che abbiamo a scuola. Problemi registrati anche in Valtiberina. Ad Arezzo invece è rimasta chiusa per due giorni la scuola media Piero della Francesca per un malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento. Al rientro dalle vacanze natalizie infatti le aule erano fredde, i riscaldamenti non funzionavano bene e mancava l'acqua calda. I tecnici si sono messi subito al lavoro, il guasto è stato riparato ma comunque per riaprire l'istituto si è preferito attendere il raggiungimento della temperatura comfort di 20 gradi. E sul tema è arrivata anche la replica della provincia di Arezzo, l'ente competente per gli edifici di scuole superiori. I problemi che la provincia sta affrontando in questi giorni in alcuni istituti, in particolare nei liceo Varchi di Montevarchi e negli istituti di Sansepolcro, sono stati condizionati dalle basse temperature e climatiche esterne che hanno mandato in tilt gli impianti termici tra l'altro non novissimi. Al liceo Varchi si è registrato un guasto subito prontamente risolto grazie all'intervento tempestivo dei manutentori che hanno reperito la pompa direttamente a Modena per evitare così lungaggini nei tempi di attesa. L'impianto termico è così ripartito ma delle criticità persistono ancora in alcune aule e laboratori. La provincia di Arezzo prosegue la nota non è mai stata inadempiente per quanto riguarda la presa in carico degli interventi, purtroppo per quanto concerne l'impianto di Montevarchi si tratta di una realtà grande e complessa che necessita di ulteriori giorni per far tornare la situazione alla normalità. I tecnici della provincia stanno inoltre tenendo sotto controllo tutti gli istituti presenti nel territorio provinciale. Si comprendono disagi arrecati ai ragazzi, al corpo insegnanti e alle famiglie e stiamo lavorando assiduamente per trovare una soluzione definitiva. Non si tratta, conclude la nota, quindi di una mancanza di volontà.